Buonasera e benvenuti all'interno di questo nuovo video del calcio al bar, l'angolo del bar e come sempre l'unico Giancarlo Alberto Marcantonio vi sta parlando e vi condurrà all'interno di questo format, una grande dimostrazione di ciò che vuol dire l'attaccamento in terra sarda, riguarda chiaramente Gigi Riva. Caro Andrea, un ritratto, alcune caratteristiche sue, che cosa ci puoi dire relativamente a questo grande personaggio, grande calciatore, rombo di tuono? Sì, buonasera caro Giancarlo Alberto, è stato un uomo in grado di unire un popolo abbastanza coraggioso e in un certo senso anche molto tosto nelle proprie idee come quello sardo, perché forse era molto chiuso, molto schivo, questo è il ritratto che ne viene fuori, io non ho avuto il privilegio di vederlo giocare, però da alcuni episodi che sono stati raccontati e che ho captato ho potuto prendere qualche informazione in più relativamente a quest'uomo che spaccava letteralmente le porte. Il primo dato che vedo è che era molto introspettivo, si diceva che parlava con se stesso e ciò secondo me lo portava a una comprensione più profonda della propria figura, più profonda di quello che rappresentava, più profonda di sé non solo come uomo ma anche come calciatore e quindi migliorava anche nelle sue abilità tecniche con l'auto analisi tra virgolette e quindi per me è questo il primo dato, sapeva cosa fare con il pallone, questo ho visto dalle immagini in repertorio e sapeva quelle che sarebbero state le contromosse avversarie e quindi poteva anticipare i propri diretti marcatori, era tanto intelligente, molto abile proprio nel capire dove sarebbe andata la palla e che cosa fare con quel pallone tra i piedi e questo lo ha reso meravigliosamente grande. In generale ha incarnato un po' quell'anima collettiva di cui la Sardegna aveva totalmente bisogno in quel periodo, era un uomo inoltre che subiva il senso dell'ingiustizia e si ribellava ad essa, per esempio fu un suo carattere introverso che molto probabilmente lo portò a scegliere da solo come soprannome preferito non quello di rombo di tuono ma quello di ombre vertical, cioè integgerrimo dalla testa ai piedi pulito, non corrotto, sempre attaccato ad un ideale e quindi per questo diciamo ci mancherà tanto perché è stata una voce del popolo sardo silenziosa che però parlava sempre con i fatti e che riusciva a far percepire con una sola giocata in campo quanto fosse speciale. Sì caro Andrea, sicuramente manifestazioni d'affetto da parte di tutta Italia, a parte l'anima diciamo abbastanza introspettiva in cui i sardi si riconoscevano. Perché Gigi Riva è stato così tanto amato secondo te? Cosa ha portato effettivamente al mondo del calcio giocato e non? Sì caro Giancarlo Alberto, la Juventus venne rifiutata da Gigi Riva come destinazione e lui così decise di rimanere a Cagliari. Ma perché venne rifiutata questa offerta? Ci fu una sorta di rivolta in terra sarda contro il trasferimento di Gigi Riva. Ma inoltre la storia ci narra anche che fu lui ad opporsi perché non era stato coinvolto nella modalità decisionale e quindi Juventus e Cagliari trattarono la Juventus con l'avvocato Agnelli era disposta anche a far follie pur di acquistarlo pur di prenderlo e quindi per lui era centrale la persona, era centrale il rispetto che si doveva avere nel modo di decidere. lui ci ricorda che la sostanza è importante ma anche un modo di rapportarsi all'essere umano considerato nella sua più totale dignità è fondamentale e quindi per questo magari ha rinunciato a un contratto più sicuramente esaustivo a livello economico ma in questo modo forse ha prediletto e ha salvaguardato se stesso. Sì caro Andrea siamo partiti da alcuni fatti per tentare di estrapolare un ritratto, una personalità di Gigi Riva e del perché è rimasto scritto negli annali del calcio. Questa volta la domanda provocatoria non c'è, vi ringrazio per l'ascolto e per essere stati in nostra compagnia e Giancarlo Alberto vi dà appuntamento al prossimo contenuto qui sul Calcio al Bar. Grazie e a presto!